Si è messo subito al lavoro il nuovo sindaco di Boiano, Carmine Ruscetta, come aveva annunciato appena eletto. Primo step il varo della Giunta, nominato quattro assessori previsti dallo Statuto Comunale e assegnato loro le deleghe. Si tratta di Raffaella Columbro, vice sindaco, Carmen Elisa Romano, Giovanni Marro ed Enzo Ferraiorni. Una decisione, ha spiegato Ruscetta, maturata dopo attenta e approfondita analisi, ma soprattutto in perfetta sintonia e armonia con tutti i componenti della lista benvenuta a Boiano. Nello specifico, per quanto riguarda le deleghe, Raffaella Columbro si occuperà di istruzione, cultura, ambiente, politiche giovanili, legalità e trasparenza. Carmen Romano di politiche sociali, turismo, sport, pari opportunità, contenziosi e consulta dello sport. Giovanni Marro di lavori pubblici, rapporti con le associazioni di volontariato, parco del Matese, tutela del territorio e coordinamento degli assessori. Enzo Ferraiorni si occuperà di programmazione economica, patrimonio, tributi, protezione civile, commercio, relazioni, enti sovracomunali, cooperazione internazionale e fondi europei. Il sindaco Carmine Ruscetta ha anche assegnato le deleghe interorganiche ai consiglieri Nicola Malatesta in materia di politiche agricole e forestali, verde pubblico urbano, rapporti con le borgate. Antonio Petrarca in materia di politiche attive del lavoro, personale riorganizzazione delle risorse umane, polizia municipale e artigianato locale. Remo Perrella in materia di bilancio, trasporto urbano ed extraurbano, attività produttive e liberato Gentile in materia di urbanistica e piano regolatore generale e innovazioni tecnologiche. Tutti senza indennità. Nei prossimi giorni ha fatto sapere e assegnerà materie e compiti specifici e circoscritti ai candidati non eletti della lista in veste di componenti dello staff del sindaco. Quindi ad Anna Carmen Perrella, Romino D'Andrea, Antonella Spina e Carmine Prioriello. C'è tanto da lavorare, ha dichiarato Ruscetta, e la priorità è il bilancio che a causa del dissesto sta al Ministero e si spera che lo approvi subito. Poi c'è la questione del debito per l'acqua da risolvere con Regione Molise Acque.